Bullismo, prevenzione, rispetto delle regole sportive e tutela della salute al momento di confronto organizzato dal SIAP e il sindacato italiano appartenenti Polizia. Un momento di riflessione per comprendere le cause che spingono i giovani a scelte criminali, a sociali e incivili, focalizzandole sul territorio. Il convegno è stato un confronto multidisciplinare aperto tra istituzioni, figure professionali, esperti del settore e ordini per ricercare delle strade per contrastare il bullismo anche attraverso lo sport. Lo sport è da sempre infatti un pilastro della formazione giovanile. Obiettivo creare anche una rete con le famiglie. Erano presenti questori di varie città bruzzesi, hanno partecipato i ragazzi dell'istituto scolastico comprensivo San Demetrio Rocca di Mezzo e sposta fuori anche la Lamborghini Huracan della Polizia a stradale. La Polizia da tempo ha attivato un'app per denunciare fenomeni di bullismo ma viene usata poco. Noi organizziamo questi eventi proprio per creare un'alleanza educativa, infatti oggi ci sono avvocati, forze di polizia, studenti, insegnanti, genitori. Dobbiamo proprio creare un dialogo tra di noi, tra di loro perché il fenomeno c'è e è inutile nasconderlo. Noi procediamo con questi eventi proprio per pubblicizzare quello che fa la Polizia e la risposta dello Stato al bullismo. La Polizia di Stato ha creato un'app che si chiama YouPoll che praticamente in forma anonima i ragazzi o chiunque può segnalare attraverso video, audio, foto e testo una sorta di WhatsApp, atti di spaccio di stupefacenti, bullismo, violenza domestica. E in più oggi con tutti questi ritori metteranno in campo tutti ciò che sono gli strumenti per contrastare questo fenomeno. Non solo repressione ovviamente da parte vostra ma anche sensibilizzazione e come dicevo prevenzione. Ma l'app si utilizza tanto? Allora purtroppo no, anche se è stata molto pubblicizzata purtroppo no. Io infatti invito i ragazzi a scaricarla, un'app che si chiama proprio YouPoll e provare. Intanto ce l'hanno. Segnare anche cose che per loro magari non sono importanti però poi saremo noi a valutare se è il caso di procedere ad andare avanti oppure meno. Grazie. Grazie. Grazie.